Musica Buongiorno, con Mattino 6, martedì 17 settembre, oggi parecchia carne a fuoco nella nostra rassegna stampa perché ieri gli studenti abruzzesi sono ufficialmente tornati sui banchi di scuola e per quanto riguarda la politica nazionale Renzi, che era stato uno dei principali fautori del governo giallorosso è fuoriuscito ufficialmente dal PD, ma ci sarà anche occasione per puntare un farro sulla geopolitica perché è stata attaccata una postazione petrolifera saudita con il conseguente, potete immaginare, impatto sull'economia e sui prezzi della benzina ma andiamo subito sui principali quotidiani a partire dalle prime pagine di quelli abruzzesi, in particolare del centro mareggiate ricorsi dei bagnatori, a Pescara De Cecco il primo a vincere la causa con il comune sul canone demaniale la fotonotizia è dedicata al capo dello Stato, ieri in visita all'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico Mattarella sprona l'Abruzzo, basta con i troppi ritardi è sempre a Pescara, strade chiuse e lavori, traffico in tilt nel primo giorno di scuola e il conservatorio in lutto, il prof Luca Marconi, mora 59 anni a Montesilvano, Movida, stop ai parcheggi selvaggi in via Crati e c'è uno scontro anche a livello regionale tra Legnini e il governatore Marsilio che ribatte appunto al candidato governatore del PD che ha perso proprio contro Marsilio ecco cosa ho fatto in questa prima parte di presidenza regionale Juve ricattata, due indagati in Abruzzo, inchiesta della procura di Torino 12 arresti, nei guai tifosi di Pescara e l'Aquila ma c'è anche spazio per lo sport Tuminello, 6 mesi di sport, rottura del legamento crociato per il bomber del Pescara andiamo a vedere la prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto Maxi furto di farmaci nel deposito a Chieti ladri in azione, nella notte svuotati tre furgoni ed è caccia alla banda a San Salvo, bruciate 30 auto usate nella rimessa dei veicoli a Lanciano giovane ferito a un occhio caccia agli aggressori e a Fossa Cesia riammesso a scuola l'alunno pluri ripetente andiamo a vedere la prima pagina di Teramo scuole sicure, lavori ancora lontani benché la scuola, come abbiamo detto, sia già cominciata il sindaco all'avvio dell'anno scolastico si scusa per i ritardi a Notaresco, multe a raffica con lo scout speed partono 100 ricorsi a Teramo Teatro Romano consegnato il progetto definitivo e Giulia Nuova, nuovi asfalti in cinque strade presto il via ai cantieri e per quanto riguarda la Serie C il Teramo vuole altri abbonati c'è entusiasmo Iachini prolunga fino al 25 la campagna abbonamenti e siamo così giunti alla prima pagina dell'Aquila, Avezzano e Sulmona Mattarella, scuole, stop ai ritardi l'Aquila è il capo dello Stato alla cerimonia nazionale sprona l'Abruzzo nella fotonotizia vediamo il presidente Mattarella circondato dagli giovani studenti Gran Sasso, stroncato da un malore a 52 anni a San Benedetto, assessore minacciato si sospetta all'intimidazione a Sulmona, guerra nel PD Dimash ci mette sotto tutela Tiri Macco e vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo meritate delle scuole sicure Mattarella all'Aquila nel decennale del sisma le istituzioni rispettano rispettino gli impegni presi il ministro Fioramonti basta con le parole gli edifici vanno ricostruiti immediatamente e la regione si incaglia sui consorsi di bonifica Juve sotto ricatto l'inchiesta tocca l'Aquila e Pescara nel mirino un geometra del capoluogo a Montesilvano il bagarino della provincia per quanto riguarda l'ambiente riscariche piene di rifiuti inerti 5 denunce mille studenti in coro ciao presidente ancora sulla giornata di ieri all'Aquila e ancora è finito il fermo il pesce fresco torna in tavola sono tornati i pescherecci a solcare l'Adriatico vediamo la città il quotidiano della provincia di Teramo Teramo senza scuole antisismiche alla prima campanella il sindaco chiede sorrisi agli studenti ma la situazione è preoccupante case alle famiglie sfollate in quattro comuni Teramani a Giulianova mercato da spostare per i lavori e vediamo la fotonotizia di una Teramo intasata dal traffico asfalto domani si parte si prevede il caos tra cantieri del gas fibra e scuole nuovo municipio a Torricella Sicura con 3,8 milioni il cantiere più grande del sisma 2016 andiamo a vedere le prime pagine nazionali per scoprire in questa giornata cosa è successo anche fuori dai confini regionali sul Corriere della Sera il titolo principale la scissione di Renzi addio PD non posso più stare assieme ai miei carnefici tra i federissimi c'è chi resterà con i democratici chiama Conte lascia il partito ma non il governo subito gruppi autonomi autostrade il manager Castellucci verso l'uscita errori in ospedale per la trasfusione muore una donna è successo in Brianza e vediamo la fotonotizia dedicata alla storia di un bambino sfortunato uno dei 20 bambini al mondo affetti da una patologia rara eccoci sulla Repubblica perché lascio il PD l'esclusiva intervista a Renzi voglio combattere i Salvini non difendermi dal fuoco amico per molti ero un intruso lo dimostrano le prime scelte di Zingaretti uscendo ora faccio chiarezza nel governo che sarà più forte non vedo il partito come un nemico ma manca la visione del futuro in settimana gruppi autonomi con una trentina di parlamentari autostrade oggi l'addio di Castellucci come abbiamo visto Malagò le mail al CIO per salvare l'Olimpiade ma anche la questione ultra della Juve ricatto alla Juve in cella i capi ultra cori razzisti se non ci date i biglietti gratis la società li denuncia 12 arrestati il fatto quotidiano Umbria, Emilia, Calabria Campania liste civiche i dinosauri ora tremano 5 stelle e PD a caccia di società civile per i regionali vacillano Bonaccini De Luca e Oliviero in Umbria Cuccinelli dice no ma Di Maio insiste con il pressing e oggi Renzi molla il PD con pochi intimi ma lascia impegno Lotti e Compani andiamo a vedere nel taglio alto Benetton scarica Castellucci a 13 mesi dal crollo del ponte attraverso un consiglio d'amministrazione straordinario e Salvini la bimba strappata non c'entra col caso Bibiano esibita a Pontida estranea l'inchiesta sempre a proposito della polemica del comizio leghista di Pontida dove l'ex ministro dell'interno ha portato sul palco una bambina per i fatti di Bibiano ma la bambina a quanto pare non c'entra nulla con la vicenda giudiziaria vediamo ancora la notizia della Juve retratata a Torino ricatti cori botte e biglietti gratis sul Traor Juve in Gabbia il manifesto mezzo toscano il dado e tratto quasi la scissione di Renzi dal PD e un serial atteso per oggi un doppio annuncio sulla stampa e in tv a porta a porta ma in tanti ora si sfilano compresi i suoi delfini Gori e Nardella la pistola scarica di Salvini il masochismo Dem a proposito della legge elettorale proposta di cui anche l'Abruzzo sarà uno dei primi promotori ha detto il coordinatore della lega abruzzese Bellachioma droni invisibili sul greggio saudita dubbi sull'attacco di sabato al petrolio di Riyadh Pompeo accusa l'Iran Trump no perché presumibilmente l'attacco è arrivato dall'Iran dovuto alle soffocanti sanzioni degli Stati Uniti così l'Iran ha dimostrato di poter andare a colpire l'export petrolifero e Likud e generali e testa a testa Israele oggi al voto si sfideranno l'ultra destra contro la destra sovranista in Israele andiamo avanti sul mattino di Napoli con i razzisti antinapoletani in ricatto degli ultra juventini arrestati 12 capi della curva minacciavano la società per avere più biglietti il romanzo criminale bianconero un suicidio rapporti con i clan e affari d'oro il PD l'addio di Renzi ma sostengo il governo lascio il partito per fare chiarezza ma non tutti i fedelissimi lo seguono calenda una scissione di palazzo Conte Zingaretti mina vagante ora è più difficile migranti divisi stop di Orban e dubbi in Francia andiamo a vedere anche la tragedia a Benevento litiga con il marito e poi uccide il figlio di quattro mesi libero non ha niente di meglio da fare adesso il papa prega per salvare il governo il pontefice qualche politico merita insulti però quelli che stanno al potere hanno bisogno che Dio li benedica perché non si era speso così per Salvini si chiede il quotidiano libero sfondati 2400 miliardi affoghiamo nel debito che sale sempre Renzi fuori dal PD verso la scissione per avere in mano il pallino del gioco l'editoriale di Vittorio Feltri andiamo avanti sul messaggero Renzi lascia il PD non il governo la scissione dell'ex premier operazione per fare chiarezza non destabilizzo l'esecutivo subito i gruppi ma non tutti i suoi lo seguono l'allarme di Conte Zingaretti ora più difficile la tregua fragile la minaccia del greggio riaccende il Medio Oriente perché dopo questa azione di cui non si capisce bene ancora chi sia l'autore confermato è ancora più vicina una nuova guerra in Medio Oriente con l'interventismo statunitense attacco ai sauditi prezzo del barrile alle stelle USA Iran guerra del petrolio il rischio benzina a 2 euro la farnesina i migranti uffici Unione Europea nei paesi africani tensione Ungheria la proposta della farnesina uffici UE in Africa scontro con l'Ungheria assenteismo statali dietro front sulle impronte sistema invasivo lo scandalo di buca capitale fondi dirottati su altre spese inchiesta della procura per falso sugli atti del Campitolio ma ancora il caso autostrade oggi CDA straordinario Atlantia Castellucci verso l'uscita la scelta della famiglia Benetton il secolo Francesco Sorace dove Renzi non ci sarà oggi Giorgia Meloni presenta l'edizione 2019 comunità contro Palazzo mai prodi al Quirinale la battaglia della Meloni perché ricordiamo in questa legislatura se dovesse durare ovviamente dovrà essere anche eletto il nuovo capo dello Stato Caos Migranti a Lampedusa effetti del governo 5 Stelle e PD Facebook oscura il secolo Fratelli d'Italia governo intervenga il sole 24 ore autostrade Castellucci pronto a lasciare il Consiglio di Atlantia deciderà oggi la posizione dell'amministratore delegato un nuovo scivolone in borsa ieri il titolo giù del 7,8% pesa il rebus concessioni boccia presidente Confindustria non diventi questione politica ma prevalga il buon senso Renzi tira quotidiano economico finanziario non poteva che essere la fotonodizia dedicata alla questione saudita tempi lunghi per il ripristino degli impianti attaccati il caro petrolio fa paura più 14% e corsa a oro e bund Stati Uniti l'attacco da Iran oppure Iraq inflazione ma non buona RC Auto la scatola nera spinge le polizie al minimo di 405 euro la stampa terremoto Renzi sul Conte Bis scissione nel PD l'ex segretario Lascia telefonata al Premier ho un mio progetto ma ti sosterrò oggi atteso l'annuncio ufficiale dell'addio la Juve denuncia il ricatto dell'ultra in 12 vengono arrestati dalla polizia in questo singolare caso di ultra contro la società e società contro gli ultra attacchi al petrolio Trump avverte l'Iran reagiremo armati come di consueto fanno gli Stati Uniti e vediamo anche Atlantia svolta di Benetton Castellucci prepara la resa dopo gli sviluppi dell'inchiesta di Genova il tempo il quotidiano che ha sempre un occhio speciale sulla politica della capitale la mattonata di Franceschini il ministro chiama per sbaglio il tempo e rivela trasformo il mio BNB a Ferrara in studentato addio alla regia ricavata dalla casa paterna per evitare imbarazzi ora che al turismo e la vignetta di Osho in Romanaccio è dedicata alla scissione di Renzi e mo che ce l'asci da solico questi sembrerebbe dire gentiloni all'ex premier alla fine si è rottamato da solo Renzi molla il PD e giurano i sottosegretari Dem nemici del 5 Stelle ma più amici della poltrona carabiniere ucciso c'è una nuova inchiesta per falso nel fascicolo al vaglio tutte le note di servizio dei militari anche il secondo americano rinuncia al riesame la verità diretto da Maurizio Belpietro altro che Green New Deal qui finiamo al verde la battuta sui colori della verità tre nuove tasse noi paghiamo in cassa all'Unione Europea Tobin Carbon e Web Tax come al solito dietro i termini inglesi si cela la fregatura il gettito di queste imposte sarà gestito direttamente da Bruxelles in cambio di un taglio e contributi gli stati perderanno sovranità fiscale e il controllo su certi temi sanità Bancomat di governo così in dieci anni è stato compromesso il sistema nazionale vediamo la fotonotizia dedicata a Renzi oggi Renzi si fa il partito per sedersi al tavolo delle nomine i grillini umbri hanno fatto secco il PD ora devono resuscitarlo e votarlo intanto Conte cerca di mettere lo zampino pure nelle candidature regionali l'odiatore di sinistra resta un Salvini dipendente a proposito degli insulti ricevuti da Gad Lerner appuntida dai militanti della Lega abbiamo anche il Papa Ferroviere Viva la Tav da pastore di anime a pontefice delle infrastrutture il gioco di parole della verità ed eccoci al secolo XIX Renzi annuncia lascio il PD il gelo di Conte sono allibito l'ex segretario dei democratici chiama il Premier dei miei nuovi gruppi pieno sostegno al governo la Juve si ribella ai ricatti ultra 12 arresti tra i leader del tifo Castellucci sotto attacco è pronto alle dimissioni autostrade raddoppia i controlli sui viadotti l'avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica anch'esso apre sulla questione di geopolitica vediamo qui un'immagine dall'alto dell'attacco al sito petrolifero attacchi in Arabia salgono toni e prezzi dopo le bombe sull'impianti cresce del 10% la quotazione del greggio Stati Uniti pronti a colpire l'Iran uno scontro sulla pelle dello Yemen in ginocchio una crisi paradossale dialogo la ricetta per l'Italia a corto di farmaci la questione affrontata dall'avvenire la sfida di pagare di più i professori a proposito dell'avvio del nuovo anno scolastico ma leggiamo anche nel taglio basso tortura di stato i giudici di Palermo dispongono tre arresti l'Ungheria contro l'Italia per i porti aperti inchiesta conferma le violenze subite dai migranti nelle carceri governative in Libia delle strutture disumane il caso di dirlo istituite grazie agli accordi presi tra Italia e Libia grazie all'ex ministro Minniti che così fermò gli sbarchi Bibiano dove sono i nove bambini vittime andiamo a vedere anche le prime dei principali quotidiani sportivi a partire dalla gazzetta dello sport nel taglio alto Toro seduto cede a Lecce Inter prima da sola Belotti rigore negato al 95esimo ed è polemica Farias è mancoso in gol inutile pari dal dischetto di Belotti sul 2 a 1 Mazzarri i penali tirano due ma è mancata la prestazione all'Italia del Piero accende la Champions Juve con più coraggio e Ronaldo la Coppa arriverà Inter e Napoli mi convincono eppure l'Atalanta a chance così l'ex bomber della Juve Inter assalto Conte allo Slavia Lukaku Lautaro Papazhang cena con Moratti e Napoli con i campioni del Liverpool la sfida infinita di Ancellotti in signe ci riprova Juve Atalanta Joao Felix Delict la classe 99 per casi Bergamo all'università ma anche ovviamente la cronaca un'organizzazione criminale nella curva della Juve manette agli ultra biglietti o bu la Juve denuncia ricatti e ritorsioni sono 12 gli arresti dopo la reazione della società la procura dice club coraggioso Verona un caso li ululati a Chessi vi ricorderete la questione dei cori razzisti Milan stoccata di Zorro al tecnico Boban a Giampaolo mi aspettavo di più andiamo a vedere anche la prima del Corriere dello Sport tornare a Champions dell'SR e godiamoci Napoli e Inter a All Star Game Ancellotti carica contro i Reds cercheremo di imporre la nostra qualità l'obiettivo è passare il turno Conte punge i critici io non sarei da Champions luoghi comuni voglio coraggio e intensità nel taglio alto occidate i biglietti gratis soccantiamo cori razzisti arresti a Torino 12 ultra Juve ricattavano la società il questore la partita con il Verona diventa a rischio colpo lecce Toro svanito Liberani vince la prima in A con i gol di Faria se Mancosu l'Inter resta in testa da sola il blitz sinistra è nato così vi riveliamo come il Bologna ha progettato il commovente abbraccio notturno a Mialovic la squadra di Bologna tornata dalla trasferta è andato sotto il Sant'Orsola all'ospedale Emiliano per salutare il mister malato tutto sport fate come la Juve il ricatto degli ultrali inchiesta la sbanner ha decapitato la curva sud 12 arresti 37 gli indagati il questore di Torino adesso altri club imitino l'esempio dei bianconeri ovvero quello di denunciare Champions la scorsa di Zhang all'Inter Napoli notte di campioni con il Liverpool la fonoto notizia ma che toro è 1-2 fallita all'ennesima occasione per il salto di qualità un grande lecce vince con Faria se mancò su non basta il rigore di Belotti che al centesimo minuto si vede negare un altro penality Inter sola in testa non accadeva da due anni e le lacrime di Ronaldo nel ricordo del papà con mozione in tv avrei voluto vedesse chi sono diventato e per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto adesso le previsioni meteo ma rimanete con noi perché subito dopo andremo a sfogliare pagina per pagina i principali quotidiani abruzzesi a tra poco rieccoci di nuovo in diretta con mattino 6 martedì 17 settembre andiamo ad approfondire ora la cronaca che riguarda la nostra regione sfogliando pagina per pagina i principali quotidiani abruzzesi a partire dal centro che titola in apertura sulla riapertura delle scuole la visita del presidente della repubblica scuole stop e troppi ritardi mattarella sprona l'abruzzo arrivano da tutta Italia all'inaugurazione dell'anno scolastico con il capo dello stato presente anche il ministro fioramonti io qui volontario dieci anni fa farò la mia parte e sempre sulla questione della riapertura delle scuole ma gli altri istituti presentano il conto ci siamo anche noi partono appelli da Teramo e Chieti da Pescara alla Marsica rappresentanti di studenti e dirigenti invocano più attenzioni vediamo quindi che per l'inaugurazione dell'anno scolastico di ieri all'Aquila con il capo dello stato non sono comunque mancate anche le polemiche per quella che da dieci anni è una delle passerelle più gettonate dai politici mentre la ricostruzione sicuramente procede a rilento approfondiamo questa questione nel nostro servizio iniziata con la deposizione di fiori sulla pietra del ricordo degli studenti e dei professori vittime del terremoto del 2009 la visita all'Aquila del presidente della Repubblica Sergio Mattarella accolto dal sindaco del capoluogo Biondi e dal presidente della regione Abruzzo Marsilio Mattarella ha sostato davanti alla pietra prima di prendere posto nel cortile della scuola Mariele Ventre per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico l'Aquila è stata scelta come simbolo di rinascita nel decennale del sisma che causò 309 vittime molte delle quali i propri studenti prima di venire in questa scuola mi sono fermato davanti alla stele che ricorda gli studenti e gli insegnanti morti in quella tragica notte di 10 anni addietro anche in loro ricordo avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo il sindaco dell'Aquila ha consegnato al capo dello Stato un documento con l'appello al governo affinché si adottino misure importanti ed urgenti per favorire un nuovo impulso alla rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2009 a Mattarella si erano rivolti anche gli studenti del liceo Aquilano Cotugno che chiedendo un incontro avevano sottolineato la necessità della messa in sicurezza delle scuole del capoluogo molte delle quali ancora ospitate nei moduli provvisori il ministro dell'istruzione Fioramonti nel suo messaggio augurale ha voluto esortare i giovani studenti a cogliere l'occasione della propria formazione per migliorare il futuro individuale e collettivo è un'esperienza irripetibile quella che vi accingete a fare della cui importanza sarete consapevoli solo una volta che ve ne sarete allontanati non sprecatela non credete agli slogan commerciali il mondo non è contenuto in uno smartphone un'app non può risolvere tutti i vostri problemi i social non sostituiscono la vita che c'è in una piazza o che c'è in una classe sono soltanto un loro pallido e freddo surrogato scegliete di essere protagonisti e non spettatori delle vostre vite il futuro proprio come il sapere non si può comprare ma è nelle vostre mani la possibilità di provare a reinventarlo di imparare come diceva Don Milani a camminare in modo diverso nel mondo solo così potrete tracciare una strada differente migliore di quella che vi abbiamo lasciato e allora non vedremo l'ora di seguirvi buon anno scolastico a tutti voi e a proposito del governo regionale la giunta risponde agli avversali Marsilio Lennini ecco cosa ho fatto governatore al contrattacco giovedì Maxi conferenza stampa a Pescara con assessori consiglieri e sindaci di centro destra e Salvini parte dall'Abruzzo per il referendum elettorale vediamo qui in foto il segretario regionale Giuseppe Belachioma scelta di porti Confindustria alza il tiro dopo il no della regione a Civitavecchia nasce giovedì a Roma l'asse Pescara-Chieti con il Lazio bus fermi nel primo giorno di scuola i sindacati percentuali di adesione allo sciopero vicine al 100% unica eccezione Pescara dove si ferma al 30% i dati interpretati dall'Unione Consumatori spesa per le vacanze estive Abruzzo tra le regioni più care per i turisti e Noemi va a scuola grazie a Skype l'annuncio di papà Andrea Sciarretta che il 27 incontra l'assessore ricorderete la bimba di Guardia Grele per cui i genitori hanno fondato un'associazione che si occupa appunto di bambini affetti da gravi patologie a Pescara spiaggia cancellata dal mare De Cecco vince il ricorso al Tar il lido delle sirene Caffè Le Paiot ha ottenuto l'annullamento del canone di 42 mila euro del 2016 i giudici l'erosione influisce sul pagamento ora anche altri bagnatori potranno chiedere i danni è stata chiesta una legge i familiari delle vittime un garante in Abruzzo ma andiamo a vedere anche nel taglio basso il riconoscimento Candelli diventa attenente colonnello per quanto riguarda l'arma dei carabinieri concorsi del comune in arrivo un altro rinvio l'ente deve fare ancora il bando per affidare la gestione degli esami a una ditta e posti a disposizione sono 20 il sindaco Masci ma non escludo ulteriori assunzioni e per i vigili si punta su 50 assunzioni nel giro di due anni via lago di Borgiano demolizione bloccata l'abbattimento dei palazzi pericolanti costa 800 mila euro ma l'Ater non ha i soldi per fare i lavori strade chiuse traffico impazzito primo giorno di scuola con il caos ieri mattina circolazione interrotta in un tratto di via del santuario i cittadini non erano stati avvisati lunghe code di auto ai colli Mascia non è un lavoro del comune ma il PD critica l'amministrazione e a proposito di PD la giunta trasformerà via Verrino in una ZTL la denuncia del partito democratico addio a Luca Marconi muore docente del conservatorio e morto a Bologna aveva 59 anni lavori completati il 30 settembre riaprono ufficialmente le naia di dal 26 settembre 4 giorni per visitare la struttura rinnovata squadra in vasca già lunedì riassunti i primi 10 dipendenti e borse di sport ecco gli incentivi per iscriversi ai corsi adesso che è settembre andiamo avanti con la nostra rassegna stampa andiamo a Montesilvano prima campanella a scuola ma i lavori non sono finiti in via Almirante l'apertura slitta al 2020 gli alunni in via Sagno e San Gottardo e l'assessore Rossi annuncia lo stazionamento di altri fondi per il nuovo edificio iscrizioni ancora aperte per mensa e trasporto andiamo avanti via Crati apre alle auto stoppa i parcheggi selvaggi a Montesilvano entro settembre il cambio di viabilità sulla strada ora a vicolo cieco presa d'assalto da frequentatori dei locali della Movida ogni fine settimana spoltore stringe un gemellaggio in Romania la delegazione guidata da Dilorito accolta nel Parlamento di Bucarest stipulato un patto con Berca a Francavilla Largo Vergani rimarrà chiusa l'opposizione attacca il sindaco polemiche sulle frasi di Luciani che ha definito la repertura della strada una piccola bugia da Mario Mantini Sarchese non ci stanno e puntano il dito sulla mancanza di democrazia e sempre a Francavilla il consiglio ha approvato il bilancio dopo che il governo comunale su questa questione aveva rischiato di cadere questa volta la maggioranza è stata compatta dato l'ok alla delibera proposta dall'assessore a Libertini viadotto di Bussi slitta alla fine dei lavori posticipata al 15 novembre la conclusione del consolidamento delle rampe di accesso al casello di Popoli sulla 25 andiamo a Chieti ladri in azione indaga la polizia maxifurto di farmaci e caccia alla banda almeno 5 malviventi assaltano la EME a Chieti Scalo rubate centinaia di scatole di medicine contenute in tre furgoni e in ospedale erano già spariti gli antitumorali alunno pluriripetente riammesso a scuola fosse cesia il preside problema comunicativo torni l'avvocato della famiglia può darsi che vada altrove bruciate 30 auto nel deposito di veicoli incendio doloso in un edificio della zona industriale di San Salvo per il ricovero dei mezzi in desuso le fiamme domate dopo ben otto ore vedete la situazione nelle foto ragazzo ferito all'occhio e caccia al branco Lanciano il 17enne preso a pugni da 5 6 coetanei anche quando era a terra il padre cerco testimoni ha fatto una denuncia su facebook pubblicando la foto che vedete sulla pagina del centro andiamo a terra ma primi 100 ricorsi contro lo scout speed nasce un comitato presieduto da Petrosino l'attività con quel dispositivo illegale chiediamo di annullare tutti i verbali trovata morte in casa il PM dispone l'autopsia a Campli la donna aveva 45 anni a Mosciano perseguita la sua vicina di casa condannato a due anni i vigili urbani di Silvi commercio abusivo sparito dalla riviera reso noto il bilancio dell'operazione spiagge sicure sequestrate merci per 60.000 euro multe per 170.000 euro ed anche il sindaco di Silvi Scordella al raduno di Pontida in quanto leghista è stata un'esperienza esaltante ha detto il sindaco nella foto abbracciato all'ex ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio e siamo così giunti all'Aquila Gran Sasso ucciso da malore a 52 anni liberatore che gestiva il negozio la coccinella ovindoli colto forse da infarto il sindaco Angelo Sante dramma per il paese vediamo nel taglio centrale stabilizzati 12 precari dal comune l'Aquila operai di svariati settori dell'ente locale sono stati assunti a tempo indeterminato caso Cerasani la pista e l'intimidazione il biglietto rivolto all'assessore potrebbe essere una minaccia per l'impegno profuso a tutela dell'ambiente nel Fucino siamo a San Benedetto dei Marsi mentre Luco dei Marsi tenta il suicidio dopo una lite grave un 32enne salvato dalla sorella avvisata dalla fidanzata e prima di leggere lo sport andiamo sul messaggero il ministro Fioramonti basta con le parole è inaccettabile che dopo tanto tempo la ricostruzione degli istituti sia al palo oggi la nostra presenza qui è di stimolo anche perché i fondi sono stati stanziati inizia un altro anno dei Musb è arrivata l'ora di normalizzare sui banchi 1639 ragazzi in meno Marsilio basta con la precarietà scuole Mattarella striglia le istituzioni basta con i ritardi l'omaggio alle vittime del sisma poi il gran pomeriggio alla 23 l'incontro con i comitati studenti dal 1 ottubre tavolo tecnico al ministero dell'istruzione i protagonisti abbiamo visto presenti il mio ministro il direttore del conservatorio aquilano Leonardo di Amicis presidi insegnanti e alunni che giorno emozionante il commento alla cerimonia di ieri nel capoluogo abruzzese andiamo a Pescara in via Scarfoglio l'emozione del primo giorno l'edificio tra quelli più danneggiati dalla grandinata di luglio è stato risanato in tempo per il ritorno dei ragazzi tre banchi la scissione nel PD ecco i tentati da Renzi per quanto riguarda i politici nostrani torna il pesce fresco fila di intenditori in banchina la fine del fermo biologico richiama al porto una piccola folla di clienti i soliti mugunni dei pescatori periodi giusti sono febbraio marzo o settembre quindi contro il fermo biologico durante l'estate un sacrificio necessario in cucina ora sotto con Moscardini e Sogliole la giungla delle discariche di macerie pieni fino a tre volte di più il consentito alcuni impianti di trattamento dei rifiuti inerti provenienti dai cantieri edili 5 aziende nel mirino dei carabinieri forestali titolari denunciati per i reati ambientali sanzioni fino a 3.500 euro bussi altri due mesi di stop per il casello dell'autostrada strada dei parchi annuncia lavori fino al 15 novembre luci su popoli tuona e il secondo slittamento ricordiamo lavori finanziati con l'aumento dei pedaggi tutti pazzi per le mediche 500 al raduno di città stantaggio un evento per i nostalgici amatori di automobili l'aquila ricatto dell'ultrara juve un aquilano tra gli indagati nelle intercettazioni telefoniche il giovane ex presidente del club cittadino bianconero ne guai anche un 50enne di montesilvano per una sospetta attività di bagarinaggio cinema massimo ci vorranno almeno tre anni per quanto riguarda la ricostruzione l'aquila 2030 il gsc vuole essere protagonista ti reddi il comune ancora condannato per il semaforo maledetto non basta la recessione in autotutera il giudice vuole lo stesso le spese legali la restituzione delle somme intanto l'amministrazione deve sborsare migliaia di euro alla ditta installatrice si tratta dei soldi per le notifiche che diventano d'oro sulla 25 auto a fuoco lunghe code e disagi come abbiamo già visto stroncato sul gran sasso da quello che presumibilmente è stato un infarto a Chieti a teatro e di scena Rigoletto il ministro premia il marruccino il sindaco di primio un riconoscimento della qualità artistica che è molto migliorata fra i protagonisti la dimensione danza e le voci bianche del comprensivo 2 e a proposito dell'infinita guerra tra i taxi Chieti Pescarra all'aeroporto d'Abruzzo i 5 stelle difendono il decreto Marsilio nel weekend torna intanto il festival del creato andiamo avanti ma che volete pestato a sangue a Lanciano forse erano sette gli aggressori del 17enne lancianese operato all'occhio perché aveva la retina bucata dai vetri il padre mio figlio non è un attacabrighe scatta l'inchiesta continua l'appello su Facebook per trovare i responsabili a Teramo SOS vi adotti e lavori lungo l'autostrada rischio caos e traffico il Tribunale di Avellino ha ordinato il sequestro delle barriere di protezione su 100 ponti provvedimento non ancora eseguito nuovo ospedale Teramo 3.0 Casalena è la zona ideale andiamo avanti con la nostra rassegna stampa piano demaniale tutte le modifiche vediamo anche fermi consiglio di stato come il Tarri lavori affidati al consorzo romagnolo andiamo a proposito di Teramo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo appunto scuola per tutti conquista democratica il presidente della Repubblica Mattarella ieri all'Aquila per assistere alle cerimonie per il nuovo anno scolastico adesioni altissime allo sciopero del trasporto pubblico disagi maggiori a Teramo Chieti e l'Aquila e nelle aree interne è soddisfatta la Filt CGL si riparte senza un solo edificio antisismico il sindaco augura agli studenti di sorridere sempre ma con la sicurezza c'è davvero poco da sorridere a Teramo la denuncia della città per quanto riguarda la situazione delle scuole Teramane sia all'ospedale Nuovo ma a Casalena per Osvaldo di Todoro della Civica Teramo 3.0 l'occasione va accolta al più presto anche se preferirebbe un'altra area consegnato il progetto del Teatro Romano l'architetto Bellomo lo ha rimesso nei tempi stabiliti ora si attende il via libera della soprintendenza asfalti al via domani col rischio paralisi ecco la prima transce di interventi d'urgenza con cantieri di gas e fibra aperti e la prima settimana di lezioni case agli sfollati in altri quattro comuni Teramani con oltre 13 milioni di euro la terrieria ha conquistato 250 appartamenti andiamo avanti con la camera di commercio torna eccellenze in digitale web marketing con google quarta edizione dei seminari dedicati alle imprese teramane con il tutor di union camere e a proposito di quello che è successo ieri alla camera di commercio di terramo con anche i rappresentanti di google vediamo meglio nel nostro servizio la camera di commercio di terramo ha aderito anche per l'anno 2019 al progetto eccellenze in digitale promosso da union camere e google l'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura dell'innovazione digitale nelle micro e piccole imprese attraverso attività di promozione delle opportunità legate alla digital economy all'innalzamento delle e-competence e alla riduzione del digital divide l'obiettivo della partnership tra union camere e google è quello inoltre di avvicinare giovani laureandi e laureati altamente qualificati al mondo del lavoro e in particolare a un settore in crescita come quello delle tecnologie di informazione e comunicazione questa è una provincia comunque dinamica la nostra iniziativa come camera è la quarta edizione che abbiamo messo a disposizione due valenti giovani che faranno la consulenza gratuita al nostro mondo imprenditoriale e quindi siamo fiduciosi che le percentuali ancora non soddisfacenti aumenteranno d'altronde ripeto le risorse che noi stiamo mettendo a disposizione sono orientate molto su questo posso annunciare che il 20 apriremo i due bandi uno per quanto riguarda le start up giovani 18-35 anni e l'altro sulle donne e dentro al capitolo proprio di questi bandi ci sono delle voci particolari proprio per dare contributi a chi vuole digitalizzarsi quali sono i settori nel nostro territorio che hanno maggior bisogno di sviluppo digitale? allora indubbiamente i settori che hanno bisogno maggiormente sono il settore industriale in cui scontiamo comunque una retratezza dovuta un po' alle tecnologie che ancora non sono del tutto sviluppate sul territorio e anche un po' diciamo da una miopia su questo posso permettermi di dire di alcuni imprenditori che ritengono ancora che il digitale sia per l'impresa fondamentalmente un costo e non un'opportunità di fare business invece voi cosa dite? e noi diciamo che invece bisogna svilupparlo assolutamente in quanto per le piccole imprese oramai il digitale significa sopravvivere per le medie diciamo per le medie imprese significa spiccare definitivamente il volo e aumentare appunto il proprio giro d'affari e il di business come approcciate l'azienda? allora approcciamo l'azienda in maniera sia collettiva quindi creando degli eventi dove tutti possono partecipare e illustrare collettivamente le proprie esigenze sia in maniera individuale cercando di fare degli incontri one to one con la singola impresa per capire un po' le problematiche legate al digitale della singola impresa e quindi sviluppare un canale preferenziale e più specifico per il settore di appartenenza e siamo così giunti alle pagine sportive domenica il Pescara ha vinto a Cosenza ma ora è incubo per gli infortuni moltissimi incubo Tuminello sei mesi di sport rottura di stop rottura del legamento crociato per il bomber domani l'operazione a Roma il club potrebbe tornare sul mercato stop di un mese anche per Palmiero Castanos il possibile sostituto è questa la questione che si è aperta a centrocampo per il Delfino e intanto Galano è tornato ecco l'arma in più è il capocannoniere con tre gol e si candida per un ruolo da protagonista Magnaghi carica Teramo è solo l'inizio l'attaccante a segno al debutto casalingo contro la Cavese sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni prima la Castrum mette in porta Chiavaroli domenica il via anche alla seconda categoria si rinforzano San Giuseppe di Caruscino e Rosciano e vediamo la serie di Chieti cooperativa del gol vastese grandi ambizioni nero-verdi in rete con sette marcatori diversi grandoni obiettivo salvezza il presidente d'Alessandro Lavezano deve cambiare rotta così non va Schipol Lanciano la risposta che serviva eccellenza lepre del Castelnuovo il club ci ha chiesto il salto di categoria vediamo anche promozione le terramane a punteggio pieno l'Aquila morra per De Marco Under 19 caccia all'Arenato Curi Angolana lunedì il Via al campionato diviso in due giorni da 14 squadre le vincenti si contenderanno il titolo regionale cambia il format dell'Under 17 e Under 15 si parte con quattro gironi da otto squadre fino a Natale poi le prime quattro giocheranno per il titolo regionale per quanto riguarda i giovani calciatori ma andiamo anche sul messaggero che ovviamente non può che affrontare la preoccupazione dell'infortunio di Tuminello il Tegola sarà fuori sei mesi la risonanza condanna il bevipomber la rottura del crociato anteriore sarà operato già i primi soccorritori al Marula si erano accorti dell'entità dell'infortunio lo vediamo qui a Cosenza zoppicante il Pescara può tornare sul mercato adesso arriva a Pasquato si chiede il messaggero un errore farsi abbagliare dal risultato il risultato aiuta nelle sicurezze Castanos inserimento ancora una volta molto produttivo bene il pescarese Davide Vitturini andiamo avanti Magnaghi si è sbloccato Teramo protagonista archiviato il successo sulla Cavese l'attaccante il gioco arriverà intanto abbiamo sfruttato alcuni spunti individuali che non mancano sabato arrende per ripetersi ma leggiamo anche la serie B la vastese è soddisfatta funziona pure la difesa e il Pineto si risolleva grazie alle sue due stelle il miracolo Chietis il secondo in solitario patron Mergiotti quest'anno l'obiettivo è la salvezza ma voglio tornare tra i prof all'Angelini solo a gennaio ma ringrazio i tifosi rapidamente andiamo sulla città di Teramo diavolo ok con l'albero di Natale Martignago e Bombaggi alle spalle di un unico attaccante una formula vincente Mungo promosso da Mezzala e ora tre impegni in pochi giorni l'articolo di Jacopo Forcella ciclismo giro di Romania Luca Fioretti e la gioia italiana sfugge la vittoria dell'atleta di Tortoreto ma arriva comunque il premio della combattività serie D una giornata da sette punti nel girone F Pineto e Notaresco vincono all'ultimo respiro un pareggio prezioso del Giulianova contro il Matelica e per quanto riguarda l'atletica 15 titoli regionali e campionati under 18 e under 16 e per questo martedì 17 settembre la rassegna stampa finisce qui vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 grazie per essere stati con noi una buona giornata a l'atletica